Maxim e Thomas erano due bambini con origini molto diverse. Se possibile erano agli antipodi. Il primo veniva dalla Russia siberiana, il secondo aveva invece origini paraguaiane. Il primo aveva capito da subito che la sua vita non sarebbe stata facile. Chiuso in un orfanotrofio da piccolissimo, aveva trovato una nuova famiglia, nuovi affetti e una nuova vita alla quale si stava abituando. L'altro era da sempre con la sua mamma. Gli ha uniti drammaticamente un venerdì nero e una regione, l'Abruzzo, dove entrambi hanno trovato una morte tragica, anche se con modalità diverse, in uno stesso giorno. Notizie che ti straziano l'anima e il cuore, quelle arrivate ieri. Si dice che quando un bambino muore si illumina una stella nel cielo. Ieri se ne sono accese due, luminosissime, perché in questo maledetto venerdì 18 luglio se ne sono spente due in terra. Certo, un omicidio e un incidente non sono la stessa cosa, ma lo strazio che provocano è identico. Il perché è urlato dalla mamma adottiva di Pescara lo stesso grado di sofferenza di quello della mamma naturale di San Salvo. Il senso di colpevolezza e il rimorso che accompagneranno la vita del papà omicida per tutta la vita sarà lo stesso, anche se con risvolti giuridici e penali completamente differenti, di quelli della donna alla quale il piccolo Thomas era stato affidato. Certe situazioni ci ricordano che il passaggio su questa terra può essere breve o lungo, ma non siamo noi sempre a deciderne la durata e che magari la famiglia felice non sempre esiste, forse nemmeno nelle pubblicità. Da oggi in poi sarà solo la terminologia fredda e distaccata del codice penale a scandire i tempi e i ricordi delle due vicende. Si dovranno accertare responsabilità e colpevolezze che in casi come questi serviranno solo a far aumentare un rimorso che già di per sé resterà incancellabile. I bambini non si toccano, ci piacerebbe che fosse sempre così, ma purtroppo così non è e non sarà mai.